Carissimi, non prestate fede a ogni ispirazione, ma mettete alla prova le ispirazioni per saggiare se provengono veramente da Dio, perché molti falsi profeti sono comparsi nel mondo. Da questo potete riconoscere lo Spirito di Dio. Ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. Noi siamo da Dio. Chi conosce Dio ascolta noi, chi non è da Dio non ci ascolta. Da ciò noi distinguiamo lo Spirito della verità dallo Spirito di errore. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Iniziamo oggi questo percorso di Catechesi da questo brano stupendo del capitolo quarto della prima lettera di San Giovanni Apostolo. E' interessante notare come i testi più tardivi del Nuovo Testamento mostrano una preoccupazione sempre più grande da parte degli Apostoli e dei loro successori per la difesa, la custodia del cosiddetto deposito della fede. Che cos'è il deposito della fede? Non è nient'altro che la parola di Dio, cioè la parola che ci salva, che ci libera dal male e dal peccato e che trova il suo compimento in Gesù Cristo. Il deposito della fede, potremmo dire, ha a che fare soprattutto con ciò che Gesù ha detto e ha fatto per noi. Ma siccome il Vangelo, come ogni altro testo, si presta a diverse interpretazioni per cui uno può fare dire al Vangelo una cosa e il suo contrario, Gesù ha affidato ai suoi Apostoli e ai suoi successori il compito, il compito importantissimo di interpretare in modo sicuro, in modo autorevole, la parola di Dio. E' per questo che è istituito quello che chiamiamo il Sacro Magistero, che potremmo anche chiamare, riprendendo un'espressione dell'enciclica di Pio XI, il Divino Magistero. Perché i Vescovi, di fatto, sono resi partecipi del Magistero stesso di Cristo. In fondo, l'unico vero Magistero è quello di Cristo. Parlano in nome di Cristo, che è l'unico vero Maestro da cui deriva ogni retta conoscenza e ogni verità. Chi ascolta voi, ascolta me, ha detto Gesù ai suoi discepoli. Pertanto, quando noi ascoltiamo i Vescovi, ascoltiamo la voce di Cristo. Non c'è alcun dubbio, questa è la via sicura per camminare nella fede, non ce n'è un'altra. E' la via che hanno seguito tutti i Santi, la via dell'umile obbedienza e del rispetto di coloro che rappresentano Cristo in ogni tempo, Cristo come Maestro della Chiesa e dell'umanità. Ecco perché San Giovanni mette in guardia quei fedeli che, invece di obbedire ai Vescovi, obbediscono a presunte ispirazioni, senza averne messo alla prova, senza averne testato la provenienza, dimenticando che anche dietro una dottrina, una pratica apprendemente sante, si può nascondere Satana. Colui che, come scrive San Paolo, si maschera da angelo di luce. Ma l'albero poi si riconosce dai frutti. Dove opera il nemico i frutti sono la divisione, l'ira, la mestizia, il pessimismo. E poi, appunto, nello stesso San Paolo anche fa una riflessione simile nella seconda lettera ai tessalonicesi, quando invita i fedeli a non lasciarsi facilmente confondere e turbare, confondere e turbare, perché di questo si tratta, da presunte ispirazioni, specialmente quelle che riguardano gli ultimi tempi e il mistero dell'iniquità, cioè il mistero della presenza e dell'azione dell'anticristo. Anche il brano di San Giovanni si riferisce a questo mistero dell'anticristo. Bene, riprendendo il testo dell'Apostolo Giovanni, qual è il criterio sicuro per sapere se uno spirito viene da Dio oppure viene dal mondo e dal diavolo? Giovanni lo esprime chiaramente. Scrive, chi conosce Dio ascolta noi, chi non è da Dio non ci ascolta. Tra ciò noi distinguiamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. In altre parole, noi siamo sicuri di camminare nella verità di Dio quando siamo in piena comunione con gli Apostoli e i loro successori, cioè i Vescovi. Subito dopo, San Giovanni, e non è certo un caso, ricorda che al cuore della fede cristiana c'è il comandamento dell'amore. Amatevi gli uni gli altri perché l'amore è da Dio, chiunque ama è generato da Dio, conosce Dio, chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore. Questo è l'altro criterio fondamentale di discernimento che per capire se stiamo camminando nella verità o nell'errore. Se in quello che facciamo, in quello che diciamo, siamo animati dall'amore, dalla carità, dalla misericordia e non dall'astio, dalla rabbia, dalla paura o da altre disposizioni d'animo che sono esattamente il contrario dell'amore e della fiducia in Dio. Credo che troppi cristiani oggi, anche da allora molto zelanti, rischiano di dimenticarsi che non si può dire di avere fede davvero in Gesù Cristo e poi continuare ad avere sulla bocca parole cattive contro gli altri. Sappiamo benissimo che oggi va molto di moda sui giornali, in televisione, su internet, fare polemiche, mostrarsi con uno sguardo arrabbiato, accigliato, cupo, sparare sentenze, specialmente contro uomini di chiesa, ergendosi a paladini della verità, paladini dell'ortodossia. Ma siamo sicuri che questo corrisponde a ciò che il Signore vuole da noi? Da coloro che desiderano amarlo e camminare sulla via della santità? Evidentemente non è così. E si potrebbero citare molti passi della scrittura per mostrare che questa non è la via di Dio. Ma ne basti uno, un testo davvero stupendo, che dovremmo imparare a memoria, dovremmo incidere nel cuore e che io amo ripetere anche alla noia. Un testo che ci fa capire quanto certi atteggiamenti oggi diffusi, ripeto, anche tra persone che comunque vogliono camminare nella via della perfezione, non abbia nulla di evangelico. Si tratta di San Paolo, un testo del capitolo quarto della sua lettera agli Efesini. San Paolo scrive E notate che qui si tratta di ratteristare lo Spirito Santo, qualcosa di terribile. Con le nostre parole cattive. Poi continua Scompaiono da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenze con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri. Questa è la parola di Dio. Questo è quello che ci chiede il Signore. Quindi, riassumendo, ecco alcuni criteri fondamentali che distinguono lo Spirito buono da quello maligno. Il primo, lo Spirito buono, è umile, obbediente, paziente. Non vuole imporre se stesso, ma si lascia guidare dallo Spirito di Dio, sapendo che attraverso l'obbedienza Dio guida la storia verso il trionfo del suo regno. Il secondo, invece, lo Spirito malvagio, è orgoglioso, è insubordinato, è impaziente, non sa aspettare i tempi di Dio, perché ha fretta di imporre la propria idea come fece Giuda e quindi non si sottomette all'autorità, anzi la tradisce con la disobbedienza. Oggi più che mai è necessario sottolineare questo, che se manca l'obbedienza e l'amore, possiamo anche essere ultra ortodossi, amanti della tradizione, per quanto riguarda la dottrina, ma in realtà non siamo nulla. Non siamo nulla, siamo cemba risonanti perché manca la carità, perché manca l'amore. E se non c'è obbedienza ai Vescovi, se non c'è amore per i fratelli, cade tutto, perché ci si separa dalla comunione vera, la comunione con la Chiesa, la comunione con Cristo. E chi si separa da Cristo prima o poi cadrà in balia dei lupi, delle forze infernali, e sarà esposto a ogni inganno e a ogni perversità. Ma so che non è facile il cammino dell'obbedienza, soprattutto oggi, e ci si potrebbe chiedere perché, appunto, nel nostro tempo, l'obbedienza ai Vescovi potremmo dire che è più decisiva che mai. Perché da diversi decenni i pastori della Chiesa, la Gerarchia Cattolica, sta attraversando un periodo, indubbiamente, molto difficile. Ci sono dei fedeli che si lamentano, perché non si sentono confermati nella fede, la fede che hanno ricevuto dai loro padri. Può capitare a volte di sentire un ministro di Cristo che sostiene un evidente errore dottrinale, oppure anche che alcuni pastori affermano una verità, ad esempio una verità morale, che è esattamente il contrario di quello che affermano altri pastori. E naturalmente a pagarne le conseguenze sono i fedeli, coloro che magari poi non hanno fatto particolari studi teologici, catechistici, e che quindi sono confusi, sono smarriti, non sanno più a che cosa credere. Eppure questo dovrebbe essere il primo compito dei pastori della Chiesa, quello di confermare i discepoli nella fede, di custodire, appunto, il deposito della fede. Poi ci sono quei fedeli, giustamente scandalizzati da comportamenti di pastori, gravemente contrari alla legge di Dio, e altri che soffrono per il modo del tutto irrispettoso, se non talora sacrilego, con cui alcuni sacerdoti celebrano la Santa Eucaristia. Che cosa pensare di tutto questo? Come dobbiamo reagire dinanzi a questa situazione? Dobbiamo allora forse perdere fiducia nei confronti dei pastori della Chiesa? Cioè dobbiamo forse credere che è bene oggi disobbedire ai legittimi ministri di Cristo, ai legittimi successori degli apostoli? Oppure non è vero il contrario? Non è vero piuttosto che proprio perché viviamo in un tempo in cui il nemico sta sferrando un attacco micidiale contro la Chiesa e i suoi ministri, oggi più che mai è necessario che ci stringiamo attorno a loro, che preghiamo per loro, che al limite esercitiamo anche con umiltà e franchezza la correzione fraterna nei loro confronti, come faceva quella laica infuocata dall'amore di Dio, dell'amore per la Chiesa, perché davvero era infuocata dall'amore per la Chiesa, che fu Santa Caterina da Siena. Non c'è altra strada da seguire, perché Gesù ha affidato ai suoi pastori e non ad altri il compito di custodire il deposito della fede. Una luce per comprendere tutto questo, per approfondire questa realtà, ci viene dalla profezia di Fatima, dalle parole che la Santa Vergine ha consegnato alla Chiesa attraverso i tre pastorelli e che davvero rappresentano una chiave formidabile per interpretare quello che sta accadendo oggi, anzi ormai da decenni, nella Chiesa. Particolarmente l'ultima parte di questa profezia, dove troviamo quella visione drammatica di un vescovo vestito di bianco, nel quale i vecenti riconoscono il Santo Padre e altri vescovi, sacerdoti, religiosi e religiosi che salgono una montagna ripida e poi vengono colpiti da vari colpi di arma da fuoco e frecce. Molti commentatori, studiosi dell'apparizione di Fatima ritengono che questa visione non abbia a che fare tanto con una persecuzione della Chiesa da parte di nemici esterni, ma abbia a che fare con una persecuzione della Chiesa dal suo interno, cioè di un attacco sferrato chiaramente dal diavolo e da colui che è chiamato l'omicida fin dal principio verso i pastori della Chiesa e coinvolgendo appunto i membri stessi della Chiesa, mirato a far cadere i pastori della Chiesa perché chiaramente una volta colpiti i pastori il grece sia disperso. Forse la conferma più autorevole di questa lettura ci è offerta da Papa Benedetto XVI in occasione del suo viaggio apostolico a Fatima nel 2010 rispondendo alla domanda di un giornalista che chiedeva se è possibile inserire nella visione della Chiesa perseguitata appunto contenuto in questa terza parte del cosiddetto segreto di Fatima anche le sofferenze della Chiesa di oggi come ad esempio i peccati degli abusi sessuali sui minori. Papa Ratzinger ha risposto possiamo oggi scoprire in questo messaggio che non solo da fuori vengono attacchi al Papa e dalla Chiesa ma le sofferenze della Chiesa vengono proprio dall'interno dal peccato che esiste nella Chiesa. Quindi un attacco alla Chiesa dall'interno dal peccato di coloro che sono dentro la Chiesa. Queste parole possono essere poi accostate a un altro passaggio sempre di Benedetto XVI un passaggio divenuto celebre in occasione della Via Crucis del Venerdì Santo del 2005 a pochi giorni della sua elezione al Soglio Pontificio. Riascoltiamo quelle parole. Che cosa può dirci la terza caduta di Gesù sotto il peso della croce? Non dobbiamo pensare anche a quanto Cristo debba soffrire nella sua stessa Chiesa? A quante volte si abusa del santo sacramento della sua presenza? In quale vuote cattiveria del cuore spesso egli entra? Quante volte celebriamo soltanto noi stessi senza neanche renderci conto di Lui? Quante volte la sua parola viene distorta e abusata? Quanta poca fede c'è in tante teorie? Quante parole vuote? Quanta sporcizia c'è nella Chiesa? E proprio anche tra coloro che nel sacerdozio dovrebbero appartenere completamente a Lui. Ecco quindi che Benedetto XVI denuncia in modo chiaro una sporcizia nella Chiesa che coinvolge appunto anche i suoi ministri, i suoi pastori. Ma proprio colui che denuncia con parole tanto forti appunto questa persecuzione all'interno della Chiesa al tempo stesso ci mostra una strada che è necessario seguire per evitare che questo scandalo possa provocare la caduta di molti. Una via che egli ha additato ha ribadito in molte occasioni e che troviamo nel suo ultimo discorso ottenuto dopo le sue dimissioni innanzi ai paroci al clero della Diocesi di Roma. Essendo le sue ultime parole rivolte ufficialmente in pubblico da Papa sono da accogliere come le più importanti come una sorta di testamento e è significativo che abbia scelto di parlare proprio a dei sacerdoti come per sottolineare che il futuro della Chiesa è nelle loro mani. Di che cosa ha parlato Benedetto XVI in quell'occasione? Era il 14 febbraio del 2013 in aula Paolo VI ha parlato del concilio Vaticano II ha offerto una riflessione memorabile su che cosa è stato che cosa significa per la Chiesa del nostro tempo il concilio Vaticano II e alla fine ha lasciato come un mandato come un compito che ogni fedele che veramente dice di ammirare di amare questo Papa non può ignorare ecco le sue parole il nostro compito è di lavorare perché il vero concilio il vero concilio con la sua forza dello Spirito Santo si realizzi e sia realmente rinnovata la Chiesa da notare l'espressione il vero concilio perché uno dei problemi più gravi della Chiesa degli ultimi 50 anni ed è proprio di questo che parla in quell'occasione il Benedetto XVI è quello di avere strumentalizzato il concilio di averlo tradito senza averlo mai davvero conosciuto Papa Ratzinger ha sostenuto in diverse occasioni che molti dei grandi problemi oggi presenti nella Chiesa non sono assolutamente dovuti al concilio che anzi rappresenta uso le sue stesse parole mutuate dal suo predecessore San Giovanni Paolo II rappresenta una bussola che permette alla nave della Chiesa di procedere in mare aperto per navigare sicura e arrivare alla meta quindi il concilio per Papa Ratzinger è una bussola mettiamocelo bene in testa quando sentiamo qualcuno che parla male del concilio come è successo anche recentemente da parte di uomini della Chiesa che si dicono poi amici di Papa Ratzinger che Papa Benedetto XVI considera il Vaticano II una bussola sicura e che la Chiesa potrà superare le tempeste del nostro tempo solo se si decide a seguire questa bussola senza esitazione certo la riflessione di Benedetto denuncia un problema un problema enorme appunto questo spirito di inganno nella Chiesa che anima i falsi profeti e che porta precisamente a interpretare in modo inaccettabile il concilio Vaticano II ora ci sono due modi opposti e ugualmente sbagliati e inaccettabili di interpretare i documenti del concilio il primo modo che è quello adottato da gruppi cosdetti conservatori cioè amanti della tradizione e che affermano e ripeto anche recentemente qualcuno l'ha fatto attraverso dei comunicati dei video che hanno avuto una grande diffusione dicono questo concilio è modernista modernista ma ci rendiamo conto di che cosa è è stato e è perché oggi è più è più forte che mai questa corrente eretica teologica e ideologica che è il modernismo modernismo qui non c'è il tempo adesso di spiegarlo nel dettaglio ma appunto è una corrente di pensiero che ha dilaniato la Chiesa già all'inizio del novecento e che San Pio X definiva la sintesi di tutte le eresie il modernismo in poche parole propugna una visione cristiana centrata sull'esperienza umana e soggettiva che tende quindi a deformare a svuotare i contenuti oggettivi della fede entro una visione relativistica e antimetafisica parole più semplici nel modernismo si afferma che ormai è tempo di lasciarci alle spalle tutti i dogmi tutte quelle norme morali appunto valide per tutte che da duemila anni ci sono e che sono considerate oggettivamente irreformabili perché ciò che conta per il modernista è soltanto la persona umana e la sua esperienza soggettiva di Cristo tutto questo ovviamente porta ad esempio a pensare la fede solo in rapporto alla vita terrena a escludere una prospettiva ultraterrena trascendente ad affermare che non esistono leggi morali appunto valide per tutti e sempre valide ma che le leggi morali vadano adattate di volta in volta in base alle situazioni a piacimento secondo la situazione in cui si trova la persona ecco questa visione ideologica ha poi conseguenze deleterie in ogni ambito della vita cristiana specialmente nell'ambito che è forse il più importante in assoluto che è quello della vita liturgica della liturgia perché la liturgia finisce con l'essere pensata come un'esperienza comunitaria orizzontale in cui ciò che conta è che ognuno viva un'esperienza positiva sul piano soggettivo emozionale poi non importa se come appunto denunciava Benedetto XVI ci si dimentica di Dio anche nell'ambito di una celebrazione liturgica ebbene un modo assolutamente inaccettabile errato di interpretare il Vaticano II e che comunque va molto di moda va molto molto di moda sui blog su insomma anche alcuni testi pubblicati eccetera è affermare che è un concilio modernista in questo giudizio influisce tantissimo la posizione e bisogna dirlo chiaramente dei Lefebriani di Marcel Lefebvre che è stato il primo ad accusare il Vaticano II di essere modernista si tratta di capire se noi vogliamo credere affermazioni come queste che ripeto non hanno nessun fondamento nei testi del Vaticano II non c'è nulla davvero nulla che ci possa portare a affermare che nel concilio ci sia una visione relativistica una visione materialistica una visione immanentista della fede cristiana qui non c'è ovviamente il tempo di dimostrare quanto sia farsa questa affermazione a Dio piacendo lo faremo nei prossimi incontri tuttavia basti far notare che le persone che considerano il Vaticano II come la causa di tutti i mali del nostro tempo ne parlano in genere senza citare i testi viene quindi anche da pensare che non li abbiano mai letti questi testi che non li conoscono proprio solo in questo modo si può spiegare un'affermazione tanto assurda come quella appunto che il Vaticano II sia un concilio modernista tantissime affermazioni antimoderniste facciamo soltanto proprio un paio di esempi perché non c'è purtroppo qui il tempo per approfondire questo aspetto si legge nella costituzione dogmatica dei verbum cito appunto questo è uno dei documenti del Vaticano II l'ufficio di interpretare autenticamente la parola di Dio scritta o trasmessa è affidata al solo magistero vivo dalla chiesa la cui autorità è esercitata nel nome di Gesù Cristo notate quel solo il solo magistero può interpretare in modo autentico cioè autorevole vera la parola di Dio questa è un'affermazione altro che modernista semmai è precisamente antimodernista perché c'è una cosa che i modernisti negano è precisamente l'autorità del magistero perlomeno non la riconoscono come l'unica autorità che interpreta la parola di Dio facciamo un altro esempio alcuni sostengono che il Vaticano II abbia introdotto l'idea che tutte le religioni possano essere messe sullo stesso piano un'idea che serve al progetto del cosiddetto nuovo ordine mondiale ma diciamolo con forza che chi collega il nuovo ordine mondiale al Vaticano II e sostiene che il Vaticano II metta sullo stesso piano tutte le religioni ancora una volta bisogna dire non ha letto i testi in cui in modo chiaro si afferma l'unicità della salvezza che viene appunto da Gesù Cristo certo come già affermavano in modo chiaro i Santi Padri della Chiesa la salvezza è possibile anche al di fuori dei confini visibili della Chiesa ma sempre per il mezzo di Cristo sempre in quanto si è associati al suo mistero pasquale sempre e soltanto per coloro che senza colpa ignorano il Vangelo di Cristo quindi non c'è proprio nulla nei documenti del Vaticano II che permetta di mettere sullo stesso piano il cristianesimo con le altre religioni e poi ricordiamo un altro dato davvero fondamentale qual è il modo corretto di interpretare i documenti del Vaticano II è quello del Magistero dei Santi Papi quelli che hanno guidato fra l'altro notate tutti i Papi davvero Santi canonizzati quelli che hanno guidato il Concilio che sono San Giovanni XXIII e San Paolo VI e poi i successori soprattutto i primi Papi dopo il Vaticano II anch'essi tutti i Papi Santi soprattutto San Paolo VI e San Giovanni e San Giovanni Paolo II ecco il loro Magistero e le loro encicliche che sono poi confluite nel Catechismo della Chiesa Cattolica rappresentano la chiave per interpretare correttamente il Vaticano II e notate che il Catechismo della Chiesa Cattolica può essere considerato a tutti gli effetti il Catechismo del Concilio Vaticano II perché mostra la continuità tra il Magistero del precedente ad esempio il Magistero del Concilio di Trento con quello del Concilio Vaticano II e qui facciamo un esempio di un documento magisteriale che interpreta nel modo corretto ad esempio la dichiarazione delle nostre tate sul rapporto tra la Chiesa e le religioni non cristiane uno se parte solo da quel documento potrebbe come avviene per il Vangelo far dire al Concilio quello che non dice ma la chiave di interpretazione corretta ci viene ad esempio dalla dichiarazione della congregazione per la dottrina della fede Dominus Iesus presieduta dal cardinal Josef Ratzinger che è in modo inequivocabile afferma che la salvezza può avvenire soltanto per la fede in Gesù Cristo esiste però anche un altro modo sbagliato un modo opposto e del tutto inaccettabile di interpretare i documenti del Concilio Vaticano II quindi ci sono quelli che dicono questo Concilio è modernista e poi ci sono altri che sono che hanno diciamo così in qualche modo una una mentalità che o è modernista o si avvicina al modernista al modernismo e che affermano che tutto è cambiato nella Chiesa con il Concilio e che ormai dopo il Concilio Vaticano II tutto è cambiato e tutto si può cambiare è chiaro che la prima reazione come lo è stata ad esempio la reazione di Lefebvre è una conseguenza di questa posizione e Papa Benedetto XVI si è battuto con grande energia per contestare questa posizione cioè questa idea che il Concilio Vaticano II abbia inaugurato come un'era nuova nella storia della Chiesa per cui siamo legittimati anche a cambiare delle parti importanti della dottrina che erano presenti prima del Concilio e gli afferma che il Concilio va letto in continuità con la tradizione precedente della Chiesa quindi non ha comportato il Vaticano II non ha comportato nessun tipo di stravolgimento dottrinale fra l'altro contro questa tesi si è battuto anche il Santo Padre Paolo VI che a un certo punto ha sentito anche l'esigenza di scrivere quel testo meraviglioso che è il credo del popolo di Dio in cui ribadiva alcune delle affermazioni dottrinali che venivano allora messe in discussione oggi ahimè molto di più di allora proprio in nome di una lettura errata del Vaticano II purtroppo bisogna riconoscerlo che alcune di queste idee sono entrate rovinosamente nella catechesi nella pastorale nella teologia ma ci si potrebbe chiedere a questo punto se è vero che non c'è questa discontinuità questa frattura tra il Vaticano II e la tradizione precedente della Chiesa perché perché convocare un concilio ecumenico e sottolineo quel ecumenico indica un concilio universale che comprende tutti i vescovi del mondo perché lo Spirito Santo ha ispirato a Giovanni XXIII di convocare un concilio ecumenico fra l'altro in un periodo così turbolento di grandi cambiamenti sconvolgimenti culturali e questo semmai andrebbe approfondito per capire che cosa è successo nella Chiesa subito dopo il concilio perché già negli anni già nella fine degli anni 50 pensiamo ad esempio tutta quella che è stata la rivoluzione culturale occidentale che ha portato a un libertinismo una liberalizzazione dei costumi in tutti i campi anche in quello artistico ma che cosa c'entra il Vaticano II il Vaticano II arriva in quel momento perché appunto a questa domanda io vorrei rispondere a Dio piacendo nelle prossime catechesi cioè qual è il valore per noi oggi del concilio Vaticano II perché Benedetto XVI lo considera una bussola per il nostro tempo comunque una prima risposta breve un accenno diciamo di risposta lo si può dare nell'ultima parte di questa catechesi prima di tutto c'è offerta dai Santi che sono divenuti tali respirando il Magistero e la spiritualità del Vaticano II comunque quei Santi che hanno vissuto una una spiritualità uno stile che corrisponde a quello che troviamo appunto nei documenti del Vaticano II recentemente ad esempio abbiamo assistito alla beatificazione di Carlo Acutis e all'inizio della causa di beatificazione del servo di Dio Don Silvio Galli ecco due Santi che potremmo chiamare figli del Concilio due fratelli che ci mostrano che è ancora oggi possibile la Santità secondo uno stile che in qualche modo può essere anche ricondotto al Magistero conciliare e se ne potrebbero aggiungere molti altri ci potrebbe anche aggiungere quella Santa che è vissuta prima del Concilio vissuta all'inizio del Novecento ma il cui messaggio è arrivato a noi appunto verso la fine del secolo anzi è stata canonizzata nell'anno 2000 si tratta di Santa Faustina Covasca e che Giovanni Paolo II considera come una Santa per il nostro tempo anzi per il nuovo millennio infatti ha affermato che il Signore ha voluto riconsegnare al mondo attraverso il carisma di Sor Faustina la luce della Divina Misericordia perché illumini il cammino degli uomini del terzo millennio notate riconsegnare al mondo non è che non fosse presente ma nel diario di Sor Faustina in diverse parti di questo diario si legge che Dio ha voluto per il nostro tempo offrire quella che chiama l'ultima l'ultima tavola di salvezza prima del giudizio che è appunto quella della misericordia si afferma che l'umanità di oggi ha tanto bisogno della misericordia di Dio e che quindi questo è un tempo in cui bisogna tornare ad annunciare la misericordia di Dio certo la vera misericordia di Dio perché anche sul concetto di misericordia c'è tanta 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 confusione la misericordia che presuppone la conversione l'orrore dei peccati il cambiamento della vita che appunto non ha nulla a che fare con un certo misericordismo che a volte si sente in giro che non ha nulla di evangelico ebbene lo Spirito Santo ha voluto che si celebrasse il grande concilio negli anni sessanta per spronare i figli della Chiesa ad annunciare con maggior vigore come accadeva tra l'altro nei primi secoli del cristianesimo il Vangelo dell'amore il Vangelo della misericordia specialmente ai lontani e per lontani qui non intendiamo solo e tanto quelli che non sono battezzati ma quelli che pur essendo battezzati quanti sono oggi quanti sono non conoscono l'amore di Dio annunciare l'amore di Dio la gioia del Vangelo la gioia dell'essere cristiani pur rimanendo fermi nelle verità dottrinari questo è il Vaticano II ebbene i detrattori del Vaticano II invece spesso ritengono che per riformare la Chiesa oggi perché la Chiesa possa essere fedele si debba semplicemente tornare a trasmettere la fede affermando la dottrina scomunicando quanti non camminano nella verità minacciando l'inferno e dimenticando però l'amore e la vera misericordia e allora si propone un cristianesimo cupo ammuffito intransigente spietato che fa pensare a quei farisei arrabbiati nostalgici sospettosi di cui parla il Vangelo preoccupati di mantenere intatte le tradizioni antiche ma incapaci di amare incapaci di tenerezza incapaci di accogliere la novità prorompente del Vangelo della misericordia questo è il punto che chi parla male del Vaticano II non ha e che non ha saputo e non riesce a cogliere in questo evento formidabile la vera novità che lo Spirito Santo ha apportato nella Chiesa e non riesce a distinguere quelli che sono i mali dovuti a un'interpretazione errata del Vaticano II dal grande bene e dal potremmo dire da quella ondata di santità che appunto proviene dal Magistero del Vaticano II ma proviamo a riflettere anche su noi stessi se davvero siamo credenti in Cristo non è principalmente perché ci hanno imposto una dottrina da credere delle norme dei riti da seguire ma perché siamo stati toccati dall'amore di Dio certo poi la dottrina da credere e le norme ditte da seguire sono necessarie ma non siamo cristiani prima di tutto per questo il Vaticano II e con esso il Magistero dei Santi Papi come Paolo VI Giovanni Paolo II Benedetto XVI coloro che lo hanno rettamente interpretato ci ricordano che l'amore per la dottrina deve andare di pari passo con l'amore per gli uomini che bisogna tenere insieme sempre questi due aspetti la fedeltà a Dio implica la fedeltà all'uomo l'annuncio della verità anche quando è scomoda anche quando è controcorrente deve sempre essere animata dall'amore quanto è attuale oggi quel celebre detto di San Francesco di Sal che diceva si attirano più mosche con una goccia di miele che con un barile di aceto e potremmo dire che la spiritualità salesiana di San Francesco di Sal è anticipato in qualche modo questa spiritualità appunto che ha suo fondamento nel Vaticano II una spiritualità per i nostri tempi mettiamo mettiamoci in testa questa cosa che non si evangelizzano i fedeli con con l'aceto ma con il miele con il miele della misericordia non con l'aceto delle critiche con l'aceto delle accuse in conclusione noi dobbiamo scegliere da che parte stare se davvero diciamo di essere in comunione con i rappresentanti di Cristo con i pastori della Chiesa se davvero diciamo di ammirare il magistero ad esempio di Benedetto XVI non possiamo non possiamo in nessun modo affermare che il Vaticano II è un concilio modernista che il Vaticano II è il servizio del nuovo ordine mondiale sarebbe una posizione schizofrenica lasciamo pure che lefevriani continuino ad attaccare il concilio loro sono nati diciamo la loro identità è questa almeno all'inizio poi c'è sempre da sperare che anche su questo cambino perché poi anche nel movimento lefevriano indubbiamente ci sono delle cose positive ma per un cattolico un cattolico è inammissibile che si attacchi in questo modo il concilio bisogna dirlo a chiare lettere chi sta con Marcel Lefevra che considerava il Vaticano II il più grande disastro di tutti i tempi della fondazione della Chiesa questo diceva Lefevra diceva che il Vaticano II è il più grande disastro di tutti i tempi della fondazione della Chiesa mentre Benedetto XVI dice che il Vaticano II è una bussola sicura per il nostro tempo allora decidiamoci da che parte stare per quanto mi riguarda io sto per tutta la vita con Pietro con i successori degli Apostoli con chi pensa e non con chi pensa di riformare la Chiesa facendo le cose di testa propria basandosi su presunte e dubbi ispirazioni per quanto possono sembrare sante e devote rendiamoci conto che il nemico come sempre è all'opera prima di tutto per dividere per dividerci per dividere la Chiesa e lo sta facendo anche con le anime elette la sta dividendo la sposa di Cristo la Chiesa la sta lacerando potremmo dire a destra e a sinistra a destra perché porta alcuni ad abbracciare posizioni apparentemente di grande amore alla tradizione di grande fedeltà alla tradizione ma lontane dal vero cammino di santità che lo Spirito Santo sta chiedendo per la sua Chiesa perché improntate a un fariseismo freddo nostalgico e arrabbiato e questo non vuol dire essere fedeli alla Chiesa del nostro tempo ma la sta lacerando anche a sinistra perché porta altri ad abbracciare posizioni eretiche e moderniste mi piace concludere con le parole di un'altra santa contemporanea un'altra figlia indubbiamente del Concilio Vaticano II una santa che tutti abbiamo conosciuto Santa Teresa di Calcutta perché una vera figlia del Concilio perché in lei conviveva al tempo stesso uno stile affabile gioioso ricordiamo tutti il suo volto segnato dalla sofferenza dalla fatica ma anche luminoso sempre sorridente e amorevole il suo stile materno amante degli uomini anche e soprattutto visto dove operava di quelli che erano che non conoscevano Gesù che quindi erano molto lontani dalla propria fede ma al tempo stesso ecco in che cosa è figlia del Vaticano II a differenza di coloro che invece sono per il cambiamento e basta è un grande amore per la verità per la dottrina madre Teresa era ferma coraggiosa anche davanti ai potenti del mondo quando si trattava di difendere i grandi valori della fede cristiana come la sacralità della vita umana ecco ecco le sue parole un cuore gioioso è il normale risultato di un cuore che arde d'amore la gioia non è semplicemente una questione di temperamento è sempre difficile mantenersi gioiosi e più dona chi dona con gioia a tutti coloro che soffrono non sono soli donate loro sempre un gioioso sorriso può darsi che non si sia in grado di donare molto però possiamo sempre donare la gioia che scaturisce da un cuore colmo d'amore se nel vostro lavoro incontrate difficoltà e le accettate con gioia con un largo sorriso in ciò al pari di molte altre cose vedrete le vostre opere buone e il modo migliore per dimostrare la vostra gratitudine consiste nell'accettare ogni cosa con gioia se sarete colmi di gioia la gioia risplenderà nei vostri occhi nel vostro aspetto nella vostra conversazione e nel vostro appagamento non sarete in grado di nasconderla poiché la gioia trabocca la gioia è assai contagiosa cercate perciò di essere sempre traboccanti di gioia dovunque andiate la gioia deve essere uno dei cardini della nostra vita cristiana grazie a tutti